E' un gruppo romagnolo, si chiama Extraliscio. Fanno una specie di punk da balera. Il mio sogno da bambino era quello di poter essere a fianco di un maestro del liscio. Piaceva la mia voce, quindi sono entrato a far parte di questo mondo. Perché la musica, quando è vera, non può morire, non può finire. Secondo me, gli angeli, secondo me, gli piace il liscio anche a loro. Suona macchina del tempo, suona, suona e tutto cambierà. Voglio indietro la mia noia, la mia stanza. Grazie a tutti.